Una passeggiata nel cuore dei quartieri Fra chiese e monumenti, arte barocca e murales, rituali pagani e cibo della tradizione L'iniziativa è stata presentata questa mattina nel Palazzo del Consiglio Comunale Sabato 1 dicembre l'appuntamento è alle 10.30 alla fermata Toledo della Metro dove saranno assegnati i biglietti gratuiti per questo singolare viaggio in uno dei luoghi più caratteristici della città Questo sabato quartieri sicuramente sarà un grande successo perché i quartieri stanno in grande evoluzione perché Napoli si è pulita e sicuramente sarà un grande successo Il sindaco ci tiene moltissimo perché appena insediato ci disse che i quartieri spagnoli dovevano diventare una piccola Montmartre poi abbiamo insediato il nostro presidente Chirico che ci ha dato sicuramente una mano Fra le diverse tappe la cinquecentesca chiesa monumentale di Santa Maria della Mercede la chiesa di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe con la sedia della fecondità le chiese barocche della Trinità degli Spagnoli e dei Santi Francesco e Matteo Al passaggio nei punti di ristorazione sarà possibile assaggiare alcuni piatti tipici della tradizione culinaria napoletana Tanti artisti che si sono avvicinati a questo spazio Ciopp e Caff in Primis, poi Rocks in the Box e Francisco Bossoletti che dall'Argentina ha realizzato un Morales fantastico sui quartieri spagnoli credo che ne arriveranno anche tanti altri perché oltre ai luoghi di interesse quindi chiese, musei, palazzi storici, portali meravigliosi sono dei luoghi che mantengono come dicevo prima intatta la loro identità e quando in un luogo c'è un'identità vuol dire che c'è cultura, c'è interesse e c'è possibilità di crescita e di sviluppo Il percorso avrà la durata di circa due ore e si concluderà a Palazzo Zevaios